Ciao, bentornato, sono Enrico di Indorpassion.co. Oggi tre delle nostre piantine sono finalmente spuntate, quindi voglio spiegarti qual è il procedimento che devi adottare per travasarle in questi vasetti che le ospiteranno per circa un mese. Ti spiegherò tutti i passaggi che devi seguire per poter travasarle al meglio. Incominciamo subito. Prima cosa, prendete una ciotola e metteteci dentro la terra. Come terriccio vi voglio consigliare il Plagron Light Mix, disponibile anche sul nostro negozio, vi lascerò il link qui sotto, che è molto ben areato perché è molto ricco di perlite. Come potete vedere la perlite in questo terriccio è veramente abbondante e inoltre questo terriccio è prefertilizzato per tre settimane di crescita. Mettiamo ora qualche pugno di cocco all'interno della nostra ciotola con la terra. Posso consigliarvi il cocco o cocco mix della Plagron, anch'esso molto buono, vi lascerò il link comunque qui sotto al video. Prendiamo ora qualche pugno di cocco e lo andiamo a versare all'interno della nostra terra. Deve essere all'incirca il 20% se volete pesarle. Utilizzando il cocco avremo una terra molto più reata che mantiene più umidità. Questo migliorerà sicuramente la salute delle nostre piante. Prendiamo ora il nostro vasetto da un litro e mezzo, che basterà per il primo mese di crescita della pianta, e riempiamolo con la nostra terra e cocco. Fino a questo livello qui. Riempiamolo circa fino a un centimetro dal bordo e inseriamo il nostro giffino di abba nero al centro, in questa maniera. Ricopriamolo ora con la terra. Ok, regoliamo ora il pH della nostra acqua, col quale andremo ad irrigare molto abbondantemente le nostre piantine. Ne irrighiamo abbondantemente perché ogni volta che effettuiamo un travaso va somministrato abbastanza acqua. Ora regoliamo il pH. Attendiamo ora due minuti e misuriamo il pH. Il giusto pH per coltivare in terra si gira fra 6,3 e 6,8. Per questa fase di crescita della pianta manteniamo pH stabile fra 6,3 e 6,5. Well, stop. Bene, si smette. Procediamo ora all'irrigazione della nostra piantina, facendo girare l'acqua intorno alla pianta. Attendiamo qualche minuto e ci accertiamo che la terra sia ben umida. Perfetto.